I pescatori del Consorzio Coggevo hanno preso una decisione volta alla protezione dell'ecosistema marino, un fermo biologico di 45 giorni. Dal 1 aprile al 15 maggio le mongolari si asterranno dalla cattura dei molluschi bivaldi, permettendo così il rinfoltimento della fauna marina. Il Consiglio di Amministrazione del Coggevo ha deliberato questo primo periodo di fermo tecnico obbligatorio con l'approvazione e l'emanazione di un'ordinanza della Capitana e di riporto di Pescara. L'ordinanza ufficializza dunque il blocco e stabilisce severe sanzioni per i trasgressori. Abbiamo scelto questi 45 giorni qua perché noi abbiamo studiato col Coggevo il fatto che c'è la riproduzione di un sacco di specie ittiche. Allora, allo scopo di favorire queste riproduzioni, noi abbiamo scelto questi 45 giorni di primavera. Dopo l'acqua si riscalda, il mollusco cresce, la qualità aumenta, anche perché noi il mare lo facciamo controllare. Noi siamo con l'Asl di Teramo, facciamo dei controlli con il motopesca Valentino, attualmente lui è il...